Gian Pietro, oggi in conferenza stampa avete parlato dei dubbi che avete sui lavori che sono stati fatti recentemente a Pescara prima del Giro d'Italia, la messa in sicurezza, il rifacimento dell'asfalto in alcune strade della città proprio per l'arrivo della Corsa Rosa. Perché parlate di dubbi e di regolarità? Perché intanto la premessa è d'obbligo, ovvero che il Giro d'Italia è stata una bella manifestazione e ci auguriamo che possa tornare nei prossimi anni a Pescara. Il problema è che si conosceva la data del Giro d'Italia già dal mese di gennaio eppure la Giunta Masci ha predisposto tutti gli atti in estremo ritardo tanto che si sono svolti i lavori addirittura prima che si completassero le procedure di selezione delle ditte per fare questi stessi lavori. Questa cosa riguarda sia gli asfalti sia il verde, sono lavori di centinaia, di migliaia di euro addirittura i lavori dell'asfalto sono partiti prima, ovvero il 5 di maggio, prima che scadessero i termini per presentare le offerte per questa gara d'appalto, per questa procedura di evidenza pubblica e si sono conclusi a ridosso del Giro d'Italia, qualche giorno dopo l'assegnazione formale. Ci chiediamo in quei giorni come sia stato possibile che un comune grande come Pescara possa aver affidato dei lavori senza aver completato la gara d'appalto e purtroppo la stessa cosa si è ripetuta per i 150.000 euro spesi per i giardini sul lungomare nord che sono stati fatti partire con largo anticipo rispetto al progetto complessivo per il quale erano stati finanziati proprio per la motivazione del Giro d'Italia che è passato a Pescara il 17 di maggio ma la determina di affidamento è stata fatta il 26 di maggio. Vuol dire che qualcuno ha utilizzato la legge a proprio uso e consumo, probabilmente ci chiediamo anzi abbiamo già una risposta ma lo chiediamo alla Giunta se ritiene che questa procedura sia legale e legittima e ci dica cosa a questo punto intende fare.